Ciao ragazzi! Ciao! Oggi proviamo questo set che ci ha regalato la zia Giulia Sì E che cos'è Alissa? È una cosa per fare i braccialetti con i dolci Sì, braccialetti e forse anche collane Sì, credo anche di sì E se oggi ci trovate in un posto diverso, siamo ritornati a Roma Eh sì, se vedete una casa diversa è perché siamo venuti a trovare i nonni, siamo a Roma E quindi ne approfittiamo per farvi vedere questo gioco Lo proviamo? Ok Questo è un gioco che unisce due cose che piacciono ad Alissa I dolci e i gioielli Ma soprattutto creare i gioielli Perché a te non è che ti piacciono tanto i gioielli, però crearli ti diverte Sì, crearli sì Ok, dai apriamoli Già così mi piace, eh Poi io mi ricordo che quando ero piccola mi facevo sempre prendere quella collanina con le caramelline Poi man mano che camminavo me ne mangiavo una Allora, carini i colori, i pastellosi Come piacciono a me Sì, ma ci sono i fili? Sì, sono questi, non si vedono però Ah, perché sono un po' trasparenti No, no, si vedono, si vedono Ok, apriamo Attenta, non fa rovesciare tutto Oh, che buon odore, senti? Mmm, già si sente No, vedo l'ora di mangiarlo Ah, per tutti Uh Ah, ecco Belli Sei pronta? Sì Iniziamo Prendiamo il filo Vuoi fare il braccialetto? Mmm, sì Ok, allora vediamo Perché il collano magari dovrei fare così Ok, allora secondo me basta la metà facciamo intanto Ok, ne abbiamo tagliato metà Adesso inizio a infilare Sono i colori dell'Italia, mamma, guarda Mmm, sì, un'Italia pastello che al posto del rosso c'è rosa Sì Aspetta, è che io voglio solo fare rosa e bianco Niente verde? No Ok Il verde non mi piace Poi magari ci metti a metà, ci metti uno di quelli grandi Non vedo l'ora di mangiarli, in realtà Ci vorrà un bel po' però, eh Non lavora un po' di pazienza Non è così piccolo il buco, eh Penso se dovessi mettere il filo nel lago Quello sì, che facile Ah sì? È super minuscolo Si sta formando Mamma Eh? Secondo te lo metto fra poco le cose e lo metto subito Lo puoi mettere quando vuoi perché tanto poi in realtà Il bracciale fa il giro, capito? Quindi lo puoi anche mettere adesso e poi continui a fare quelli piccolini Aspetta, voglio scegliere Ma c'è scritto qualcosa, Ala? Uno c'è scritto love you Poi questa è una farfalla Un fiore, I love you E una stella marina Non so che cosa mettere Che forse dovevo metterci il bianco Aspetta, ci metto il bianco perché ci sono due rose Allora così farò tipo Si sta già formando mamma Si Poi sì il bianco Già fatta Beh è semplice Beh sì, in fondo sì Quando saranno finite tutti questi voglio che lo ricompriamo eh Ok Poi ti toccherà farne uno solo verde praticamente Però vediamo a che punto sei arrivata Poi però non è che te le devi mangiare tutte insieme eh Te le devi far durare un po' Si provo E se io faccio Ehi Ehi Vole tu l'hai fatto Ho quasi fatto Dai 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 Fatto Vediamo il risultato Che bello Sai che hai fatto bene Secondo me a scegliere questi due colori e basta Si Ok lo chiudo eh Bello Adesso tagliamo questa parte che è troppo lunga Fatto Vediamo un po' Che bello Si è bellissimo Ma si può anche togliere e rimettere elasticizzato Vediamo un po' Si Perciò magari se faccio fatica così Agna gna A sgranocchiare lo puoi Lo puoi togliere Si Love you Questa magliettina Che tra l'altro c'è un gelato Sempre un dolce E per i miei pantaloni E' vero Sei tutta gelatosa E super Caramellosa E poi L'altro ieri abbiamo mangiato il gelato Ma che cosa eccezionale Ma che cosa eccezionale Siamo in estate Che cosa strana Che hai mangiato il gelato E oggi ho mangiato il killer Tutte cose dolci Vabbè insomma Glielo vuoi dare un assaggino O non lo vuoi rovinare Adesso è quello il problema Non lo so Facciamo così Mangiamone un'altra di queste qui Già sfuse Ok Questa è la terza Eh? Che hai detto? Niente Questa è la? E' la terza E' la terza Vabbè Queste sono per emergenza Quando per esempio sei fuori Che magari me Guardate Hai detto quando sei fuori Magari mi hai accompagnato In un posto noioso Devi aspettare Sai come passare il tempo? Mangiando Ecco Puoi dare un po' di dolcezza Ai momenti brutti Ai momenti noiosi Beh certo Però Se è proprio brutto brutto Non è che dico No no Che ne sai Invece magari si Vabbè Comunque Qui abbiamo finito Perché abbiamo fatto il braccialetto Però adesso non ci va di farne altri Perciò mettiamo via E li facciamo la prossima volta Sì Va bene E allora ragazzi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Io e Alissa Vi mandiamo tante caramelle virtuali Questo video finisce qui E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Che cosa mi zoomi? Ti zoom No E così Io e Alissa Abbiamo finito di fare questo gioco Sì Ti sei divertita? Sì Allora ringraziamo anche Zia Giulia Che ci ha fatto questo bel regalo Sì Anche se in realtà Il compleanno era mio E il regalo l'ha beccato lei Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti